Una lunga giornata per Papa Francesco iniziata con l'abbraccio ai giovani nella prima messa in Myanmar, nel grande parco Kiek San di Yangon. Il ragazzo ha ricordato che il lieto annuncio in mezzo a tanta ingiustizia, povertà e miseria viene da Gesù. Per questo non bisogna avere paura che il Signore può aiutarvi, ha detto il Papa, ad essere genuini se capaci di ascoltare la sua voce. Ma anche i Santi possono aiutare ad arrivare a Gesù, coltivando la vita interiore come un campo. Altro compito è non aver paura di porre domande che facciano pensare, perché il Vangelo, ha proseguito Francesco, cresce sempre da piccole radici. Così è necessario gridare con la vita, con il cuore, per essere segni di speranza. Siate coraggiosi, a concluso, generosi e gioiosi. Nell'incontro con il Supremo Consiglio Sangha dei monaci buddhisti, il Papa ha sottolineato l'importanza dell'occasione per affermare l'impegno comune per la pace, per la giustizia e rispetto della dignità umana di fronte alle difficoltà e alle sfide di questo tempo. Francesco ha ribadito la comune via dell'amore e della compassione, citando in proposito gli insegnamenti di Buddha per superare l'odio, le incomprensioni e l'intolleranza, simili ai sentimenti espressi dalla preghiera della pace attribuita a San Francesco. È responsabilità particolare dei leader civili e religiosi assicurare che ogni voce venga ascoltata, cosicché i bisogni di questo momento, ha aggiunto il Papa, possono essere chiaramente compresi e messi a confronto in uno spirito di imparzialità e reciproca solidarietà. L'auspicio è stato quello di continuare insieme a seminare semi di pace e di guarigione. Nell'abbraccio nella cattedrale di Yangone con i vescovi che come pastori devono avere l'odore delle pecore, Francesco ha ribadito che in un paese impegnato a superare divisioni profondamente radicate e costruire l'unità nazionale, la Chiesa del Myanmar deve seguire la chiamata a favorire l'unità, la carità e il risanamento nella vita del popolo e in modo che la comunità cattolica abbia un ruolo costruttivo nella vita della società. Il richiamo del Papa ad avere un ruolo nelle questioni di interesse nazionale, particolarmente insistendo sul rispetto della dignità e dei diritti di tutti, in modo speciale dei poveri e dei vulnerabili. Perché la Chiesa ha aggiunto un ospedale da campo che deve guarire le ferite. Molte le raccomandazioni ai presuri, in particolare il fervente anelito missionario e l'accompagnamento ai giovani verso sani principi morali per affrontare le sfide di un mondo in rapido cambiamento e minacciato da colonizzazioni ideologiche e culturali. Grazie a tutti.